oggi fratelli volevo parlarvi appunto di questo perché è importante volevo parlarvi della risurrezione della risurrezione dei morti però mi sono reso conto che c'era bisogno di fare anche questa premessa quindi oggi parleremo del momento della morte di gesù e di dove si è andata la sua anima quando quando il suo corpo era era messo nella tomba e lì aspettava perché voi sapete che gesù cristo morì e il terzo giorno è risuscitato ecco in questo frangente di tempo comunque in cui il corpo era depositato nella tomba e lì è rimasto era rimasto per questo tempo l'anima di gesù invece dove è andata perché l'anima è immortale l'anima non si addormenta l'anima diciamo non perde coscienza ma l'anima dell'uomo anche dopo che muore va in un determinato luogo e lì rimane sempre cosciente e volevo appunto parlarvi di in modo particolare in modo specifico di di quello che è accaduto a gesù cristo che poi fondamentalmente è quello che accade a ogni a ogni anno ora vediamo vediamo come si giunge alla morte di gesù vediamo come pietro racconta la storia di gesù di nazareth in breve e dobbiamo andare quando pietro parla a cornelio tra le altre cose tra le altre cose pietro dice queste parole al capitolo 10 al versetto 37 pietro dice queste parole quando era a casa di cornelio che è stato chiamato da un angelo è stato fatto chiamare da un angelo per annunziare l'evangelo della grazia della salvezza a cornelio e a tutti quelli della sua casa tra le cose che nel discorso di pietro introduttivo poi per l'annunzio dell'evangelo ci sono anche queste parole che riguardano diciamo la storia di gesù di nazareth al versetto 37 leggiamo voi sapete quello che è avvenuto per tutta la giudea cominciando dalla galilea dopo il battesimo predicato da giovanni vale a dire la storia di gesù di nazareth come il dio l'ha unto di spirito santo e di potenza e come egli è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo perché il dio era con lui e noi siamo testimoni di tutte le cose che gli ha fatte nel paese dei giudei e in gerusalemme ed essi l'hanno ucciso appendendolo ad un legno esso ai dio risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che gli si manifestasse non a tutto il popolo ma ai testimoni che erano prima stati scelti da dio cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti quindi qui vedete pietro prima di annunziare l'evangelo racconta in breve quello che gesù ha fatto gesù ha cominciato a predicare gesù è andato attorno a partire dalla galilea è andato attorno per tutta la giudea a fare del bene a liberare coloro che erano schiavi del dominio del diavolo coloro che erano malati coloro che erano posseduti dai demoni coloro che erano schiavi soltanto delle tenebre e il signore li ha salvati con il suo messaggio e ecco quindi che gesù è andato attorno facendo del bene ma pure facendo questo si è fatto molti nemici i capi i capi religiosi di quell'epoca presi da invidia perché il popolo se continua se lo lasciavano ancora fare avrebbe creduto completamente in lui allora per l'invidia l'hanno calunniato hanno fatto hanno architettato la sua morte e quindi sono riusciti ma questo perché era così scritto perché diverse volte hanno cercato di prendere gesù hanno cercato di prenderlo ma non sono riusciti gesù passò in mezzo a loro e non riuscirono a prenderlo perché perché il suo tempo ancora non era giunto quindi doveva essere catturato gesù è messo a morte solamente nel momento che dio aveva già stabilito aveva già prestabilito che gesù cristo l'agnello di dio che toglie i peccati del mondo sarebbe si sarebbe dovuto sacrificare per diciamo avrebbe dovuto sacrificare il suo corpo avrebbe dovuto spargere il suo sangue per la nostra purificazione e salvezza e purificazione dei dei nostri peccati di coloro che avrebbero creduto in lui e dopo essere stato ucciso quindi è stato flagellato è stato messo in croce e il terzo giorno è risuscitato così come dicono le scritture adesso prendiamo nel vangelo di luca prendiamo dove viene descritta la morte di gesù quindi dobbiamo andare al capitolo 23 del vangelo di luca al versetto 44 al versetto 44 quindi gesù fu preso fu flagellato e dopo fu messo in croce il momento della morte luca il medico diletto luca dice scrive queste parole che riguardano la morte quando è avvenuta la morte di gesù ora era circa l'ora sesta e si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona essendosi oscurato il sole la cortina del tempio si squarciò per mezzo e gesù gridando con gran voce disse padre nelle tue mani rimetto lo spirito mio e detto questo spirò così avvenne la morte di gesù cristo che era venuto in carne perché ricordatevi che gesù è venuto in terra con una carne simile a quella dell'uomo dobbiamo dire simile perché perché nella sua carne nella carne di gesù non abitava il peccato non c'era il peccato come invece noi uomini essendo discendenti di adamo per discendenza di adamo e anche perché siamo nati da un rapporto da un rapporto carnale tra uomo e donna e il salmista dice che diciamo dice queste parole che sono stato concepito nel peccato quindi vedete affinché gesù venisse sulla terra con carne simile alla nostra ma senza che il peccato fosse lui non poteva venire da un rapporto carnale tra uomo e donna quindi ecco quindi che lo spirito santo ha fatto in modo che maria la vergine maria rimanesse diciamo incinta e poi partorisse gesù cristo con una carne egli che è dio ab eterno capite cioè gesù è sempre esistito non ha avuto una creazione ha avuto una nascita con la carne simile alla nostra ma gesù già preesisteva prima cioè non è che era che diciamo prima non è venuto all'esistenza nel creato di dio nel momento in cui è nato attraverso nel momento in cui è stato concepito da marì nel nel ventre di maria ma gesù è sempre esistito perché noi crediamo che gesù cristo è è stato sia vero uomo ma è anche vero dio per poter dire che vero dio dobbiamo dire che gesù è sempre esistito non ha avuto una creazione gesù è sempre esistito egli è dio quindi quando è davvero dio quando è venuto sulla terra egli era vero dio e anche vero uomo abitavano in gesù entrambe le nature quella di vero dio e vero uomo noi adesso per quanto riguarda la morte stiamo esaminando la parte che riguarda il fatto che gesù era anche un vero uomo infatti è morto è morto in carne la sua anima poi è andata è andata in un altro luogo che è andata nell'ades ed è questo che oggi volevo volevo parlarvi volevo concentrare la mia attenzione su questo facendo queste premesse citandovi il fatto che gesù è morto gesù è morto essendo vero uomo la sua carne è stata messa a morte e poi dopo essere morto gesù leggiamo più avanti sempre nel vangelo di luca capitolo 23 dal versetto 50 leggiamo che gesù è stato anche seppellito quindi il suo corpo dopo essere morto è stato seppellito e leggiamo queste parole ed ecco un uomo per nome giuseppe che era consigliere uomo da bene e giusto il quale non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri ed era da arimatea città dei giudei aspettava il regno di dio venne appilato e chiese il corpo di gesù e trattolo giù di croce lo involse in un pannolino e lo pose in una tomba scavata nella roccia dove niuno era ancora stato posto e quindi il corpo di gesù perché gesù morì veramente cioè non è che morì come muoiono gli uomini tutti gli uomini morì veramente anche gesù nella sua nella sua umanità come vero uomo nella sua natura di vero uomo gesù nel corpo morì veramente morì e fu seppellito quindi noi sappiamo che passò un certo periodo di tempo da quando gesù morì e fu seppellito fino al terzo giorno ecco questo periodo di tempo la scrittura ci dice dove andò l'anima di gesù perché le scritture ci ammaestrano anche in questo cioè il corpo riposava e stava nel nel nella tomba mentre la sua anima la scrittura ci dice che andò nell'ades l'ades e viene chiamata in italiano il soggiorno dei morti in ebraico è chiamato sheol e in greco ades che indica il soggiorno dei morti è un luogo dove si raccolgono dove vengono raccolte le anime adesso in questo momento dopo la risurrezione di gesù c'è questa distinzione da fare prima della risurrezione di gesù nel soggiorno dei morti erano andavano a finire tutti sia i giusti che andavano per riposare in pace dopo la loro morte e la loro anima andava si recava nell'ades ma stavano in un luogo chiamato il seno d'abramo un luogo dove c'era un luogo di riposo per la loro anima mentre c'era un'altra parte dell'ades che era un luogo di tormento era quella parte dove le anime le anime perdute le anime che non erano state salvate quelle che quelle anime di cui dio non ha avuto misericordia ecco che sono vanno andavano a finire prima e ancora oggi vanno a finire in questo luogo della chiamato ades soggiorno dei morti vanno a finire in quel luogo dove poi sono tormentate giorni e notte in una fiamma che non è attizzata da mano d'uomo da lì dio vivente e vero quindi in questo luogo in questo ades diciamo andavano a finire tutte le anime tutte tutte dico tutte perché perché prima della risurrezione di gesù ci andavano sia le anime dei giusti e sia le anime di coloro che poi erano tormentati l'apostolo pietro dobbiamo andare alla prima epistola dell'apostolo pietro dove ci dice che gesù andò a predicare appunto andò a predicare nell'ades andò a predicare con il suo spirito naturalmente perché la sua carne il corpo di di gesù riposava era lì privo di vita nella tomba e pietro dice queste parole al capitolo capitolo 3 della sua prima epistola al versetto leggiamo dal versetto dal versetto 18 poiché anche cristo ha sofferto una volta per i peccati egli giusto per gli ingiusti per condurci a dio essendo stato messo a morte quanto alla carne ma vivificato quanto allo spirito e in esso andò anche a predicare agli spiriti ritenuti in carcere i quali un tempo furono ribelli quando la pazienza di dio aspettava ai giorni di noè mentre si preparava l'arca nella quale poche anime cioè otto furono salvate tra mezzo all'acqua quindi vedete qui l'apostolo pietro vi ricordate che in atti l'abbiamo letto gesù dopo essere risuscitato si mostrò si mostrò agli apostoli si mostrò a quelli che lui aveva scelto quindi li ha scelti e si è fatto vedere da loro questo leggiamo i primi capitoli di atti degli apostoli che prima dell'ascensione di gesù prima di essere di ascendere in cielo di salire al padre e di rimanere alla destra del padre gesù incontrò i suoi discepoli gli apostoli coloro che lui aveva scelto li incontrò per 40 giorni si fece vedere da loro per 40 giorni e in quei 40 giorni parlò li ammaestrò li guidò in tante cose gli spiegò sicuramente tante cose tra le cui cose gli spiegò oppure che quando sicuramente sicuramente può darsi anche che la domanda gliela fecero ma ma la tua anima dove era dove sei andato quando il tuo corpo era nella tomba ecco la sua anima qui pietro lo spiega e sicuramente in qualche maniera il dio gesù stesso gliel'ha fatto sapere gliel'ha fatto conoscere che la sua anima è andata e scesa nell'ades diciamo scesa perché l'ades si trova nel punto più basso della terra ora essendo la terra sferica e una sfera e un globo quindi il punto più basso del globo è il suo centro la sua parte centrale da tutti i punti della sfera di questo globo ecco che il punto più basso è il centro di questo globo il centro della terra qui in questo luogo si trova ancora l'ades si trova ancora l'ades all'epoca in cui quando morì gesù andavano a finire tutte le anime indistintamente i giusti e gli ingiusti e pietro dice appunto che gesù andò andò in quel luogo e quando dice in spirito dice in esso andò anche a predicare agli spiriti ritenuti in carcere sì perché lì lì erano bloccati erano 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 come prigionieri le anime erano come prigionieri soprattutto prigionieri erano quelli lì che erano tormentati da quella fiamma ora qui la scrittura ci dice che gesù ha predicato l'evangelo l'ha predicato a quelli che furono ribelli attenzione aver predicato l'evangelo aver predicato l'evangelo non vuol dire che queste anime poi si convertirono perché dopo è semplice c'è una volta che tutti gettano all'inferno tu per liberarti dall'inferno crederesti a qualsiasi cosa quindi non avrebbe senso annunziare l'evangelo però perché il dio così ha stabilito ha voluto stabilire questa cosa e così è avvenuto quindi gesù ha annunziato l'evangelo a quei ribelli che morirono a quei ribelli a quelle anime perdute che morirono che morirono durante il diluvio che si erano ribellati diluvio che vide salvate solo otto persone noè i suoi figli e le mogli dei suoi figli e la moglie anche di noi quindi in tutto fanno otto persone otto anime furono salvate da dal diluvio e gesù ha annunziato l'evangelo ai morti attenzione qualcuno può qualcuno dice no che essendo questo un passaggio difficile da credere umanamente e mentalmente no mentalmente e qui perché vedete fratelli quando si tratta delle scritture ci sono delle cose che sono anche logiche da capire cioè dare del denaro a un povero e pregare intercedere per qualcuno sono cose facilmente accettabili anche 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 da un ateo anche cioè facilmente comprensibili va bene però ci sono altre parti delle scritture come ad esempio facciamo un esempio il dio fece i cieli e la terra dal nulla cioè il nulla c'era il nulla prima e il dio dal nulla fece ogni cosa capite qui ci vuole fiducia bisogna credere in dio per accettare una tale cosa e invece la mente una mente che invece diciamo vuole spiegazioni scientifiche vuole vedere con i propri occhi come avvengono le cose questa questo tipo di mente questo tipo di persona cosa fa si mette a ragionare dire ma non è logico che dal nulla il dio abbia fatto tutto com'è possibile che dal nulla provenga tutta questa materia queste stelle quest'universo che vengano fuori diciamo degli esseri viventi sia vegetali che animali come possibile tutto questo questa è la mente razionale cioè cerca di dare una spiegazione razionale a quello che non capisce non può accettare una mente solo razionale perché noi noi credenti non è che non siamo razionali e che noi siamo dove la ragione non spiega le cose dopo noi crediamo comunque alla parola di dio noi crediamo che dio ha fatto i cieli alla terra perché abbiamo fiducia in dio abbiamo fiducia nella sua parola perché in ebrei è scritto che la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono cioè noi non vediamo non abbiamo visto e non vediamo come dio abbia potuto fare i cieli e la terra non l'abbiamo visto ma ma per noi è dimostrazione attraverso la fede è una cosa che noi prendiamo come certa come in maniera certa e assoluta cioè dio ha fatto il cielo e i cieli e la terra per noi non è discutibile questo per fede vedete per fede perché la fede dimostrazione cioè è una cosa che per noi è sicura l'ha detto dio per noi è certo e qui c'è la fede cosa che una mente solo razionale ma senza fiducia in dio non può accettare ecco tra queste cose tra queste cose difficile ho fatto quell'esempio per farvi capire che nelle scritture ci sono determinate cose che vanno prese diciamo per fede cioè dobbiamo credere che siano esistite in quella maniera che siano avvenute in quella maniera perché crediamo in dio per fede quindi non possiamo trovare una logica ad esempio quando giosuè in battaglia pregò iddio invocò iddio che diciamo la luna si fermasse da una parte e il sole dall'altra quella giornata durò più a lungo perché perché tutto si fermò veramente la luce rimase fino a quando tutti i nemici non furono diciamo trovati e uccisi da israele che erano che stavano combattendo contro i loro nemici quando entrarono in cana e quello non ha una spiegazione logica che la terra si si fermi il sole si fermi e la luna si fermi tutto si ferma tutto l'universo che dicono che tutto è in movimento no quindi un certo movimento dicono che lo stesso universo tutto gira attorno a qualcos'altro tutto si è fermato quindi dio ha fermato ogni cosa per la invocazione di giosuè ora noi questo che che lo leggiamo non possiamo dargli una spiegazione scientifica non ha una spiegazione logica e scientifica ma ci dobbiamo credere perché perché il dio l'ha scritto nella sua parola e noi crediamo che dio è verace il nostro dio è un dio verace ci crediamo per fede ecco tra altre cose che dobbiamo credere e anche questo c'è scritto che gesù nella sua nello spirito con la sua anima andò andò a predicare a quei a quelle anime a quelle anime ribelli che morirono il giorno del diluvio così è scritto e così dobbiamo credere così sta scritto taluni taluni che non volendo accettare questo quello che è scritto cosa sono inventati si sono inventati naturalmente il famoso sempre il solito significato spirituale non delle parole quindi vanno oltre a quello che è scritto e gli danno un significato che diventa razionale cioè più accettabile alle menti alla mente alla mente limitata dell'uomo perché l'uomo ha i suoi limiti mentalmente di sapienza di calcolo e di accettazione di determinate cose e si sono messi a dire che questo vuole dire che noè predicò a quelle genti predicò con lo spirito di cristo predicò l'evangelo le predicò la salvezza ad annunziare la salvezza fu fu noè dice chiaramente pietro che fu annunziato l'evangelo fu annunziato l'evangelo quindi prima di tutto è questo che non è che dice fu annunziata qualcos'altro ma l'evangelo e noi sappiamo che l'evangelo è strettamente legato al alla vita al sacrificio di cristo gesù e alla sua risurrezione infatti poco prima dice che ha sofferto una volta per i peccati e gli giusto per gli ingiusti per condurci a dio essendo stato messo a morte quanto alla carne ma vivificato quanto allo spirito e in esso andò anche a predicare agli spiriti ritenuti in carcere quindi in spirito andò a predicare agli spiriti ritenuti in carcere i quali un tempo furono ribelli quando la pazienza di dio aspettava mentre al capitolo 4 al versetto 6 sempre della stessa epistola sempre pietro rivolgendosi sempre allo stesso fatto allo stesso evento dice queste parole poiché per questo è stato annunziato l'evangelo vedete quindi qui quel fatto che gesù andò nell'ades ad annunziare e andò a predicare agli spiriti non solo gesù andò a predicare ma dice la parola anche che cosa predicò predicò l'evangelo cosa che noi non ha potuto fare no è era un predicatore di giustizia ma c'è scritto che noi era predicatore di giustizia non un predicatore dell'evangelo perché noi ancora non conosceva l'evangelo e qui al versetto 6 quindi abbiamo detto 4 6 di prima pietro poiché per questo è stato annunziato l'evangelo anche ai morti un altro passo vedete quindi è stato annunziato prima di tutto l'evangelo e questo l'ha potuto fare solo gesù quindi se si prende il passaggio così come scritto e poi dice qui anche ai morti perché gesù non ha annunziato l'evangelo solo ai ai vivi ma l'ha annunziato quindi anche ai morti vedete annunziato l'evangelo anche ai morti perché prima quando era in vita lo ha annunziato ai vivi ai vivi e poi quando è nella sua anima nel suo spirito quando è andato nell'ades egli gesù cristo ha annunziato l'evangelo anche ai morti a coloro che erano morti capite fisicamente anche ai morti onde fossero bensì giudicati secondo gli uomini quanto la carne ma vivessero secondo dio quanto allo spirito è chiaro che quel quell'annunzio dell'evangelo non aveva il significato nella pretesa di salvarli perché perché questi qui erano ribelli quindi erano andati a finire nell'ades erano andati a finire nella parte dell'ades del tormento quindi è solo per una questione di giustizia voi sapete che scritto chi crede non sarà giudicato ma chi non avrà creduto è già giudicato quindi un giudizio di perdizione già è stato dato c'è già il giudizio in se stesso è già stato dato nell'evangelo c'è già il giudizio cioè chi crede sarà salvato chi non crede andrà in perdizione capite quindi nel messaggio c'è già questo giudizio ebbene gesù quando ha annunziato a queste anime ribelli l'evangelo non ha fatto altro che annunziare il giudizio quella parte in particolare a loro interessava era per il giudizio perché avevano già ricevuto una parte del giudizio e gesù gli ha dato il resto quello che riguardava secondo secondo l'evangelo perché erano già stati giudicati infatti erano già stati giudicati da dio e già puniti già gettati all'inferno all'inferno che è un'altra parola con il quale si definisce l'ades è l'inferno quindi l'inferno volevo ricordarvi che non è eterno perché verrà il tempo quando la terra sarà distrutta l'ades sarà svuotato e tutte le anime dei perduti saranno riversate nello stagno di fuoche di zolfo questa è la morte seconda le anime lì staranno per l'eternità mentre mentre nell'inferno nell'ades non possiamo dire che rimangono per l'eternità questo non lo possiamo dire per perché la scrittura ci dice appunto che avrà un termine l'ades l'inferno avrà un termine e saranno gli abitanti le anime che saranno in questi in questi che sono in questo luogo sarà risusciteranno naturalmente per il giudizio quindi anche a loro sarà dato un corpo risusciteranno sarà dato un corpo che è un corpo e poi saranno gettati nello stagno di fuoco e di zolfo dove lì rimarranno nel tormento per l'eternità per quanto riguarda l'ades vedete anche gesù anche gesù è andato in quel luogo come come diciamo ha dovuto percorrere anche lui questa strada che hanno percorso tante tante anime per parlare ancora dell'ades gesù ne ha parlato dell'ades e qui dobbiamo andare al vangelo al vangelo di luca torniamo al vangelo di luca dove gesù parla dell'ades e ne parla a proposito del racconto di del ricco e di lazaro ora ci sono certuni che dicono che questa non è un racconto veramente accaduto ma noi riteniamo che sia un qualcosa che sia realmente accaduto la storia del ricco e di lazaro perché facciamo le nostre considerazioni chiaro ad esempio non si parla che sia una parabola qui nella stessa scrittura non si dice che sia una parabola non si dice che sia una similitudine non viene utilizzata neanche la parola come che indica uguaglianza quindi che sia un racconto non veritiero che abbia un contenuto una morale un insegnamento non c'è niente anzi vengono riportati dei nomi dei nomi ad esempio viene riportato il nome di lazaro quindi quindi diciamo tutti gli elementi ci sono tutti gli elementi per credere che questo racconto sia un qualcosa un fatto realmente accaduto non ci sono elementi per pensare che sia stata solo una parabola quindi che abbia un significato spirituale ma il fatto è accaduto realmente in questa maniera che adesso leggeremo e quindi in questa maniera dobbiamo dobbiamo fare le nostre deduzioni e prendere i nostri insegnamenti da quello che realmente è accaduto senza inventarci nulla senza trasformare il significato reale delle cose ora leggiamo quello che dice luca a riguardo di questo fatto che è accaduto nell'ades or vera un uomo questo lo leggiamo capitolo 16 di luca dal versetto 19 16 19 or vera un uomo ricco il quale vestiva porpora e bisso ed ogni giorno godeva splendidamente e vi era un povero uomo chiamato lazaro che giaceva alla porta di lui pieno di ulceri bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco anzi perfino venivano i cani a lecargli le ulceri or avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di abramo morì anche il ricco e fu seppellito e nell'ades essendo nei tormenti alzò gli occhi e vide da lontano abramo e lazaro nel suo seno ed esclamò padre abramo abbi pietà di me e manda lazaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentato in questa fiamma ma abramo disse figliolo ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che lazaro similmente ricevette i mali ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato e oltre a tutto questo fra noi e voi è posta una gran voragine perché quelli che vorrebbero passar di qui a voi non possano né di là si passi da noi ed egli disse ti prego dunque o padre che tu lo mandi a casa di mio padre perché ho cinque fratelli affinché attesti loro queste cose onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento abramo disse hanno mosè e i profeti ascolti in quelli ed egli no padre abramo ma se uno va a loro dai morti si ravvedranno ma abramo rispose se non ascoltano mosè e i profeti non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse questo fatto questo racconto che gesù racconta appunto ci dà molte molte informazioni che riguardano l'ades ad esempio l'ades ci dice qui che era suddiviso in due parti e da una parte non si poteva andare dall'altra c'è una parte dove le persone erano consolate dove andò lazaro nel seno di abramo e dove c'era anche abramo e quindi quel luogo c'erano anche tutti gli altri giusti che anche se qui non lo dice lo comprendiamo c'erano tutti i giusti i profeti cioè quelli che erano morti fino a quel momento fino a quel momento perché non sappiamo quando risale esattamente quindi tutti quelli tutti i giusti che morirono fino al momento in cui lì anche lazaro andarono in quella parte della consolazione dell'ades quel luogo nell'ades in quel luogo dove c'era però consolazione a differenza della parte invece dell'ades che dove c'era il tormento dove era tormentato quel ricco era tormentato nelle fiamme un'altra cosa che comprendiamo è che le anime vedete siccome il ricco fu seppellito no c'è scritto quindi il corpo rimase nella tomba come avvenne poi per gesù il corpo era nella tomba ma la sua anima andò nell'ades e così anche il ricco il corpo rimase nella tomba e ancora lì sarà se c'è ancora qualche cosa se esiste ancora qualcosa in attesa della risurrezione per quanto riguarda il ricco una risurrezione di giudizio la seconda risurrezione quella per il giudizio mentre la prima risurrezione e la è beato e santo e chi partegeva la prima risurrezione perché la prima risurrezione è quella risurrezione dei santi dei giusti di coloro che sono salvati e quindi qui ci fa sapere appunto che le anime non sono addormentate nel senso che non hanno coscienza di quello che succede loro infatti vide il ricco il ricco vide qui dice essendo nei tormenti alzò gli occhi e vide da lontano abramo e lazaro nel suo seno ed esclamò vedete quindi quell'anima potrei esclamare potrei parlare padre abbramo abbi pietà di me e diciamo nella sua in quello che vide in quello che lui sapeva in quel luogo sapeva anche che lazaro poteva andare a intingere il suo dito nell'acqua per portargliela a lui così pensava però poi abbramo non disse che si sbagliò che lazaro non poteva andare ma disse che non si poteva passare da una parte all'altra questo lo disse ma quello che che diciamo comprendiamo da questo dialogo tra lazaro e enrico scusate tra abbramo e enrico e che c'è diciamo che sono coscienti sia quelli dalla parte del tormento e sia dalla parte quelle anime sono coscienti sanno quello che gli succede attorno a loro questo vuol dire sono coscienti non sanno magari cosa accade sulla terra questo non lo sanno però sanno quello che accade attorno a loro nel luogo dove essi si trovano sia quelli che si trovano nel tormento e sia quelli che si trovavano per il seno di abbramo devo parlare al passato perché dal momento in cui gesù è risuscitato tutti coloro che erano nel seno di abbramo e lo vediamo in un passo successivamente furono portati in cielo e liberati liberati dalla loro prigiania di quel luogo e portati in cielo quindi nell'ades sono rimasti attualmente solo coloro che sono diciamo destinati al tormento quelli che sono sono giudicati da dio degni di essere tormentati giorno e notte quindi vediamo appunto da questo racconto che esisteva esiste ed esisteva l'ades dove andavano le anime dei morti quindi l'anima non moriva quando moriva il corpo l'anima non è addormentata ma bensì è ben sveglia interagisce con tutto quello che gli è attorno questo è una delle cose che si comprende un'altra cosa che comunque diciamo è utile sempre dire vedete e che Enrico ritiene che se Lazzaro risuscitasse e andasse a parlare ai suoi familiari questi avrebbero creduto all'inferno se Lazzaro glielo avrebbe raccontato mentre abbramo dice di no perché se non ascoltano Mosè e i profetti non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse se uno dei morti risuscitasse capite quindi quindi alla fine vedete la cosa più importante non sono tanto i segni e i prodigi ma quello che conta è credere nella parola di dio credere in quello che dice la parola dell'idio vivente e in queste parole di Abramo si capisce chiaramente quanto è più importante credere e attenersi strettamente a quello che insegna la parola di dio anziché essersi farsi guidare dai segni da determinati prodigi perché voi sapete scritto no che talvolta il dio permettere alla prova il suo popolo permette che certi segni e certi prodigi accadano e ci sono quelli purtroppo che vengono sviati vengono portati poi lontano dalla verità seguendo appunto questi segni e questi prodigi mentre noi ci dobbiamo attenere strettamente alla parola l'abbiamo detto non ci stancheremo mai di dirlo lo ripeteremo sempre che quello che conta è la parola di dio qualsiasi segno qualsiasi prodigio qualsiasi rivelazione qualsiasi pensiero ci viene in mente deve essere filtrato bisogna che sia raffrontato con quello che dice la parola dell'idio vivente vero e se è diciamo contraria noi dobbiamo rigettare queste cose ritenute rivelazioni o segni o prodigi se sono contrarie alla parola di dio allora noi dobbiamo credere piuttosto alla parola di dio che credere in questi segni e in questi prodigi perché è cosa di lungo migliore infatti infatti vedete lo dice anche abramo hanno mosè e i profeti ascolti in quelli oggi noi cosa abbiamo mosè e i profeti e abbiamo anche gli scritti degli apostoli i vangeli gli scritti degli apostoli e anche lo scritto della rivelazione di apocalisse abbiamo adesso questi tutti questi scritti ed è di gran lunga migliore credere a quello che c'è scritto nella parola che credere piuttosto magari a certi presunte rivelazioni che certuni dicono di aver avuto no e invece non sono da dio perché che certe rivelazioni che certo che ti possa apparire qualcuno no e ti possa dire una cosa un essere che non soprannaturale un essere che non è un uomo ti può apparire e ti può parlare ma il problema è di chi da parte di chi è venuto questo e comunque sia qualsiasi cosa che dica qualsiasi cosa che faccia dobbiamo poi andare a confrontarlo con le sacre scritture cioè quando se appare qualcuno e ci dice qualcosa di contrario alle sacre scritture noi non dobbiamo crederci chiunque esso sia chiunque esso sia un angelo o chiunque esso sia che ci appare noi dobbiamo sempre attenerci alle sacre scritture e qui è ribadito davanti a tutta questa situazione spirituale no di anime che sono morte di qualcosa di potente davanti a una risurrezione dei morti addirittura ecco che cosa viene risaltata ancora una volta si mette in risalto abramo mette in risalto che cosa mose e i profeti le scritture capite le scritture le scritture i comandamenti che dio ha lasciato e quelli che noi dobbiamo seguire sino in fondo fino alla fine senza abbandonarli mai le scritture le sacre scritture sono quella cosa che valgono più di ogni altra cosa più dei segni e dei prodigi ben vengano perché noi crediamo nella risurrezione che dio può risuscitare dai morti lo crediamo noi crediamo nei segni nei prodigi nei sogni e nelle visioni nei doni spirituali nelle lingue nel battesimo con lo spirito santo noi ci crediamo perché è scritto nella parola e la parola è fedele verace non può venire meno però altresì crediamo che la parola ha la preeminenza davanti a tutto quindi se una rivelazione o qualsiasi cosa di soprannaturale sia contraria alle sacre scritture o non sia confermata o comunque sia ritenuta dannosa per per quello che è scritto nel secondo quanto è scritto nella parola noi dobbiamo rigettare questi segni questi prodigi queste rivelazioni le dobbiamo rigettare ma senza esitazione senza esitazione perché noi ci dobbiamo attenere strettamente a quello che è scritto nella parola ora per tornare al nostro soggetto al fatto che al fatto che nell'ades vedete le anime le anime tra di loro interagivano operavano e questo è dimostrato anche da quello che ha detto pietro quando gesù andò nell'ades annunziò l'evangelo ai morti anche ai morti vedete quindi quindi questo significa che questo significa che anche dopo che il corpo muore l'anima continua a vivere e non perde coscienza la coscienza della nell'anima non non viene persa cioè non è che ci si addormenta e non si sente più quello che succede attorno a noi anzi è pienamente cosciente di quello che che gli succede sia a quelli che sono nella 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 pace e nella consolazione e sia quelli che sono tormentati ora andiamo a leggere anche l'apostolo paolo ci parla di questo fatto che diciamo gesù è andato nell'ades lo dice anche l'apostolo paolo nella lettera nella sua lettera agli efesini e lo dice in questa maniera andiamo a leggere paolo quello che dice agli efesini efesini 4 7 ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono largito da cristo egli è per questo che è detto salito in alto egli ha menato in cattività un gran numero di prigioni ed ha fatto dei doni agli uomini or questo è salito che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa quindi vedete anche paolo dice praticamente che gesù prima di salire in alto nella parte più alta è sceso anche nella parte più bassa della terra e nella parte più bassa c'è appunto l'ades la parte più bassa della terra è l'ades quindi gesù anche paolo conferma che è sceso che gesù è andato prima di di essere di salire al cielo e essere alla destra del padre gesù diciamo è disceso nelle parti più basse è disceso nell'ades però qui paolo ci fa sapere anche che cosa ha fatto gesù gesù quando è salito in alto qui ci dice ha menato ha liberato praticamente un grande numero di prigioni questo significa che nel seno di abramo nel seno di abramo c'era un grande numero di credenti già c'era già un grande numero di persone che erano salvate già all'epoca in cui gesù gesù diciamo era morto ed è risuscitato quindi quando gesù è risuscitato secondo quanto dicono qui le scritture che gesù quando è salito in alto quindi vedete salì prima è disceso nelle parti più basse della terra e nell'ades e poi è salito in alto quando è salito in alto si è portato con sé i prigionieri che c'erano quei prigionieri che erano del seno di abramo perché quelli che quelli che non sono salvati quelli continuano ecco i perduti continuano a scendere ancora adesso nell'ades continuano ad essere a precipitare all'inferno invece dalla risurrezione in poi siccome il seno di abramo si è svuotato e tutte le anime dei santi dei giusti di coloro che dio ha voluto salvare ha avuto misericordia sono salite nel cielo adesso sono davanti a dio sono davanti al signore quindi anche l'apostolo paolo conosceva in qualche maniera perché ricordatevi che anche l'apostolo paolo è stato ammaestrato da gesù cioè l'apostolo paolo non ha ricevuto l'evangelo dagli uomini ma l'ha ricevuto anche lui direttamente da gesù quindi tra le cose che sicuramente gesù gli ha insegnato altrimenti non poteva sapere capire queste cose ma gesù gli ha insegnato gli ha sicuramente l'ha ammaestrato anche in queste cose ed ecco quindi non avendole imparate dagli altri uomini ma li ha imparate da gesù e tra le cose che gesù sicuramente gli ha insegnato c'era anche questo cioè che gesù andò nell'ades e quando risuscitò perché il terzo giorno poi risuscitò quindi rimase un certo numero di ore di un certo tempo gesù rimase la sua anima l'anima di gesù il suo spirito rimase nel nel nell'ades in quel luogo nel seno di abramo naturalmente poi predicò a quella parte dove abbiamo letto in pietro ai ribelli che aspettavano ai tempi di noè quelli che morirono durante il diluvio a quei ribelli e quando gesù è risuscitato quindi paolo ci dice che gesù ha liberato i prigionieri un grande numero di prigioni li ha liberati li ha portati con sé in cielo li ha portati in cielo adesso i santi che muoiono quindi dalla risurrezione di gesù in poi da quando queste anime furono portate in cielo adesso i giusti che muoiono vanno direttamente in cielo quelli che muoiono dopo la dopo la risurrezione di gesù vanno in cielo vanno direttamente a stare davanti al trono e davanti all'agnelo e questo lo leggiamo quindi adesso andiamo a vedere delle anime che sono morte dopo la risurrezione di gesù e vediamo che si trovano lassù nel cielo dobbiamo andare a leggere in apocalisse leggiamo questi versetti questi passi al capitolo 7 di apocalisse versetto 9 dopo queste cose vidi ed ecco una gran folla che nessun uomo poteva noverare di tutte le nazioni e tribù e popoli e lingue che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello vestiti di vesti bianche e con delle palme in mano e gridavano con gran voce dicendo la salvezza appartiene all'idio nostro il quale siede sul trono ed all'agnello vedete davanti al trono quindi davanti al trono c'era questa grande folla questa grande folla di uomini di anime di uomini che erano provenivano da tutte le nazioni tribù popoli e lingue questi si trovavano dove qui dice che si trovavano stava questa folla stava davanti al trono davanti al trono e davanti all'agnello vedete quindi davanti al signore davanti al trono e davanti al signore gesù ma un'altra cosa che voi quindi questi qui dopo vediamo che sono quando morirono morirono moriranno meglio durante la persecuzione durante la persecuzione che ci sarà durante la grande tribolazione però quello che ci interessa a noi è per due motivi primo vedete che si trovano davanti al signore e seconda cosa qui la scrittura ci dice che gridano con grande voce dicendo la salvezza vedete come lodano il dio la salvezza appartiene all'idio nostro il quale siede sul trono e dall'agnello quindi i santi le anime dei giusti non erano diciamo prive di coscienza e di vita e di interazione con quello che gli era attorno non erano non erano addormentati incoscienti quando erano nell'ades e non lo sono neanche adesso che sono nel cielo infatti queste anime vedete che erano davanti al trono davanti al trono di dio davanti all'agnello e che cosa facevano esclamava gridavano a gran voce gridavano la salvezza appartiene all'idio nostro il quale siede sul trono e dall'agnello quindi non erano privi di coscienza ma era avevano una piena coscienza di quello che stavano facendo lì e di quello che accadeva lì infatti davano gloria a dio glorificavano e dio e questi è tutta gente che morì che morì durante la grande tribolazione questo lo leggiamo più avanti sempre al capitolo 7 di apocalisse dal versetto 13 leggiamo queste parole e uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi questi che sono vestiti di vesti bianche chi sono d'essi e donde sono venuti io gli risposi signor mio tu lo sai ed egli mi disse essi sono quelli che vengono dalla gran tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello perciò sono davanti al trono di dio e gli servono giorni e notte nel suo tempio e colui che siede sul trono spiegherà su loro la sua tenda vedete lo servono giorni e notte questi che sono queste anime dei morti che provengono da quel periodo qui adesso è scritto di quel tipo di anime attenzione la scrittura qui ci parla di queste anime che provengono da quel periodo però se queste anime provenienti da quel periodo sono davanti al signore diciamo non è una cosa inverosimile dire che tutte le anime sono davanti al signore e lo lodano e lo servono perché non è che sono morti solo loro nel tempo per la testimonianza di gesù cristo ma ce ne sono anche tantissimi altri anche prima della grande tribolazione i santi sono stati perseguitati a cominciare appunto dagli apostoli no dagli apostoli dai discepoli e nel tempo fino ad oggi anche i santi che oggi si addormentano nel signore muoiono nel signore vanno vanno a davanti all'eterno adesso davanti all'agnello e davanti al trono di dio per servirlo giorno e notte perché perché sono stati salvati cioè il dio ha avuto misericordia di loro le loro vesti vedete perché a noi anche a noi oggi è accaduto come è accaduto loro infatti la caratteristica di questi di questi anime qual è qual era era questa al versetto 14 lo leggiamo la caratteristica più importante che li distingueva che li distingueva era questo hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello ebbene fratelli ma anche a noi è avvenuto questo le nostre vesti la nostra anima i nostri peccati sono stati purificati dal sangue dell'agnello cioè noi abbiamo la stessa speranza la stessa identica quindi se noi moriamo se rimaniamo fermi nella fede costanti nella fiducia in dio che se ci atteniamo alla verità della sua parola se perseveriamo sino alla fine nel momento in cui noi moriamo il nostro corpo verrà messo nella tomba la nostra anima andrà davanti al signore andrà davanti al trono del dio vivente per servirlo giorno e notte in attesa della risurrezione in attesa della risurrezione dove ci sarà dato un altro corpo ci sarà dato un corpo che sopravvestirà il nostro vecchio corpo quello che rimarrà del nostro vecchio corpo o il dio lo creerà di nuovo insomma il dio l'ha fatto una volta ci ha fatto anche il corpo glorioso saprà anche come far tornare saprà come fare questo io non mi preoccuperei di questo dov'è il corpo dei nostri fratelli che sono morti duemila anni fa che non è rimasto neanche neanche una un pezzettino di polvere no per dire ma io non mi preoccupo perché perché conosco che lì dio vivente vero è potente glorioso da fare quello che gli piace sicuramente anche se il corpo è stato completamente incenerito distrutto il dio sa quello che può fare che deve fare nulla è impossibile al nostro dio quindi un corpo glielo darà un corpo gli sarà dato anche all'oro quindi vedete dove andremo e questo ho voluto raccontare questo per poi la prossima volta parlarvi appunto della risurrezione dei morti perché anche questo è importante però prima della risurrezione giustamente era dovevamo considerare la nostra anima dopo che moriamo doveva la stessa cosa che è accaduto anche accaduto anche a gesù quello che è avvenuto a gesù perché gesù è colui che ci ha aperto la strada ad ogni cosa quindi noi percorriamo la strada che gesù ci ha aperto quindi gesù ci ha aperto la strada per il cielo ea a noi ea tutti gli altri che sono morti portandoli lassù nel cielo ebbene ci ha aperto lui la strada e la noi andremo saremo col signore infatti paolo dicevo di gran lunga migliore e di partirmi dal corpo ed essere col signore e quindi paolo sapeva sapeva con certezza che se quando sarebbe morto la sua anima sarebbe andata in attesa della risurrezione dei morti sarebbe andata davanti al signore quindi questa è la nostra speranza la speranza che noi abbiamo una delle speranze che noi abbiamo perché abbiamo anche la speranza della risurrezione dei morti del nostro corpo quindi quella è un'altra fa parte della speranza che noi abbiamo però adesso la fiducia che noi dobbiamo avere è che quando il nostro noi moriremo abbandoneremo questo corpo qui sulla terra la nostra anima andrà direttamente davanti al signore davanti al signore per lotarlo e glorificarlo perché così leggiamo nelle sacche scritture non leggiamo altre cose leggiamo questo quindi a questo è bene che tutti noi ci atteniamo se facciamo altre considerazioni è bene che troviamo dei passi ben precisi e che siano ben spiegati perché altrimenti il dio non si compiace della stoltezza c'è solo perché magari una cosa non ci piace o non la comprendiamo a fondo non la dobbiamo rifiutare ma dobbiamo attenerci strettamente a quello che è scritto e questo era il messaggio questa speranza che volevo volevo darvi partendo appunto spiegandovi quello che è successo a gesù cristo così diciamo anche la nostra anima poi quando si dipartirà dal corpo andrà ad incontrarlo sarà alla presenza di dio e alla presenza di gesù cristo lassù nel cielo a dio siano la gloria l'onore la lode nei secoli dei secoli amè